Siamo con Davide Candellaro, che difensore perché nel momento concitato del terzo set hai salvato una palla, una diagonale di Petric se non andiamo a errare. Davide, anche questo 3-0 è un mattoncino importante per l'Europa ma anche nella sfida contro Modena. Guarda, innanzitutto voglio fare complimenti alla squadra che in verità la cosa più grossa è stata recuperare quei 3-4 punti che avevamo di svantaggio intorno al 20, il mettesimo punto, poi punto a punto, sai, possiede di tutto, io ragazzi ho tenuto una fucilata, mi sono trovato lì e ho cercato di tenere la palla alta, tutto qui. Secondo me questa vittoria sì è importante per la Champions ma è importante per il morale, per il morale nostro, tutto qui. Beh, abbiamo espugnato il pallapanini e non è mai semplice, ora c'è questa sfida importantissima domenica che la Lube affronta forte del 3-0 maturato questa sera. Domenica affrontiamo di nuovo Modena e dobbiamo farlo così, concentrati, pensare solo al nostro campo, come abbiamo fatto questa sera. Dritti per la nostra strada, loro sono fortissimi, quindi ci sta che fanno qualche punto in battuto, qualche break, recuperano punti e ci vanno davanti, però l'importante è che come abbiamo fatto stasera dobbiamo stare lì con la testa. Grazie. Grazie.